Bella raga, ciao a tutti il Comendone Veneziano, F1 Manager, in attesa del 23. So che ci sono delle mode ragazzi, ma non sono fatte molto bene secondo me, hanno bug, robe, non mi piacciono comunque, non tutto corrisponde. Allora, finisciamo i primi secondi, primo con Sainz e secondo con Leclerc, noi siamo partiti a bomba nella stagione dopo la doppietta del Bahrain. Le strategie sono diverse perché Leclerc parte con media e lo stesso anche Sainz, però Leclerc fa i primi due stint, diciamo belli, aggressivi. Quindi aggressivi, aggressivi, puoi chiudere con le softball in maniera più tranquilla. Mentre il senior Sainz Junior farà un po' più aggressivo nel settore centrale, il primo e l'ultimo invece con un ritmo standard. Raga, siamo pronti e andiamo. Gran premio dell'Arabia Saudita. Prima filata Ferrari, dai raga. Go, go, go. Ok. Ok. Prima parte spingiamo sempre. Vediamo, Sainz vuole la fuga Sainziana. Ricordo. Ok. Leclerc supera Sainz velocemente. Buono. Vai ragazzi, vai che voglio la doppia vittoria. Voglio ancora la doppietta Ferrari. Missivo e standard. Perfetto. Non perdiamo tempo. Comunque ho visto che ci sarà una differenza anche nelle strategie, nello stile di gara, proprio. Sarà molto bella sta cosa, secondo me. Dove puoi cambiare l'attacco, la difesa, proprio addirittura c'è il morale durante la gara, in base a quello che succede. Tutto molto figo, ragazzi. Ok, Leclerc è la mia punta, numero uno, mi interessa. Io sono così. Come Jean Toddy, ragazzi. C'è il mio numero uno, stop. Ok, vediamo le gomme. Le Stappen addirittura le hard. Qualcuno le soft, strategie molto diverse. Vai, Sainz. Vediamo se Leclerc riesce a fare la fuga. Leclerchiana. Ok. Testa coda, ragazzi. Testa coda. Testa coda di Albon. Vediamo cosa combina. Oh, no, non ci credo. Niente di grave, ma errore che non puoi fare a questi livelli. Ancora Yellowflay, però, eh. Ok, se ne va. Vai, Carletto, vogliamo la fuga. Carlettiana. TRS attivo. TRS enabled. TRS enabled. Mamma mia, sti Ferrari, cioè, veramente, non me li aspettavo così forti. Sinceramente. Ok. Copii. Leclerc sta tentando la fuga. Grande Charles. Dai, non sbagliare, Charles. C'è stato un bloccaggio qui. Testa coda. Ok. E cominciamo a conservare un po' di Benza. Safety car, safety car, safety car. Safety car, però. Vediamo. Ecco il replay. Stiamo vedendo la Red Bull. qui si vede chiaramente che ha causato un sacco di danni. Brutto, brutto, brutto. Out Hamilton. Hamilton, GG. GG, Hamilton fuori. E ci sarà il TRS off. Allora, però, la sosta ce l'ho tra il TRS e il diciannovesimo, cioè, il 2026, cioè, mi sembra troppo presto, sinceramente, per provare, cioè, per fare, diciamo, le soste. Dai, non possiamo adesso, non ha senso, non ha senso, safety car. Forse non ci voleva, perché l'avevamo messi veramente bene, Verstapp e S-Bike anche la penalità. Verstapp veramente vai box. Tutto da rifare, purtroppo. Tutto da rifare per le Ferrari aveva un bel vantaggio, cazzo, 10 secondi, però è anche vero che Verstapp è l'ultimo e GG è fuori. Eh, subito colpo di scena importante. Ok. Ok, vediamo subito di ritentare la fuga, speriamo. Tutti i vicini, mi raccomando, non facciamo cagate, grazie. Ho avuto un brutto incidente tra Max e GG. Non c'è la fuga, non c'è la fuga, non c'è la fuga, signori. Copio. Copio. Vai. Eh, già, c'è già la fuga, c'è già la fuga, signori. Non possiamo tenerle su neutro per adesso. E il DNS è disabilito, il DNS è disabilito. Sì. Ok, leclerc, attenzione ancora, yellow flag. TRS attivo. Ok. È venuto in gara iper tranquilla, però, caro, abbiamo visto che basta un niente. E saluti. Andiamo a vedere le gomme pneumatici. Io sono abbastanza, insomma, siamo un'assera 74, leclerc, sta usurando un bel po' le gomme adesso, eh. Però siamo sopra, diciamo, alla strategia, quindi va benissimo. Ok, certi, va nei box. Ok, finestra, box. Per Charles. Per Charles. Facciamo dare tutto. Adesso faremo la sosta. Ok, e andiamo di gomme dure e vediamo se la strategia è giusta. Ok, science man del comando e può andare con Massimo. Vediamo Charles. Ok, questa è appena davanti, questa non è simpatica, questa cosa, purtroppo. Ok. Ora, con leclerc, il secondo istinto è andare al 36, al 42, siamo sempre aggressivi. Perfetto. Molto regolare. Emo, vediamo Charles, che combina. Non perda molto tempo. Alla, un so largo. Ok, molto vicino Charles. Mi raccomando, fantastico, sorpasso, che bello. Vai, vai, lec, vai, lec. Atten... Mamma mia. L'ho vista brutta. Riuscita a guadagnare una posizione. Ok, science è entrato in finestra, scusate, che cazzo. Oiii. Buon, dopo l'ultimo stint è chiaro che leclerc non potrà spingere. Dai, lec, supera Max. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Eh, c'è Verstappen brutto qui. Mamma mia, sta prendendo tanto tempo, secondo me, qua Charles. Mamma mia, stiamo rischiando tanto, secondo me. Vai, Charles, vediamo. Giro record di leclerc, però. Giro record di leclerc. Ok. Apri, sosta. Medium. Buono, molto bravo Charles. Molto bene Carletto. Devo andare di conservativa adesso, però. Ok, adesso. Junior, ora sempre standard Junior. Ok, lec, secondo. Attenzione, Sainz. Adesso. Può andare i box, però, eh. Conferma i sosti. Che sembrano. Ok, adesso va, adesso va, dai. Ultima curva, dai, i box. Eh, ma le Red Bull ci sono, eh. L'ho recuperato bene. Incredibile. Ma Perez, come hai messo? Ah, dai, guarda i box, però, Perez. Ok, ok. Comunque, Verstappen, l'hai messo male. Sono tranquillo. Ok, Sainz è sesto, adesso. Sainz. Aggressivo Junior. Stiamo un po' su potenza. E vai. Solo Gigi. Fuori in questo momento. Dai, Sainz, però, eh. Oh, giro record di Sainz. Siamo andando anche i box, gli altri, teoricamente. Ok, equilibrato anche il carburante. Perfetto. Eh, le Clerc sta veramente guidando il top. Speriamo bene. Speriamo bene, raga. Ok, Sainz sta arrivando secondo, primi e secondi. Primi e secondi. Verstappen comunque è entrato sesto, è da ultimo. È un super dominio per il momento, è incredibile. Spero anche quello che abbiamo l'ultima sosta, eh. Adesso Verstappen, ovviamente, punta a spaccare tutto. Non lo dirò, andremo con le software, ricordiamolo. Abbiamo modo di recuperare, però, dovremmo fare il sorpasso in pista, credo. Anzi, sicuramente. Non lo vediamo, non siamo vicini, spero. 36, 42. Speriamo bene. Bene, mi richiamo, però, eh. Sto adattato Pete, ok. Vai. Copy box now, Pete confirm. Copy box. Adesso, lec, vai box. Sosta per lec, sosta per lec. Vai, anche lui è al top. Vai. Dieci giri dobbiamo superare in pista, credo, entrambi. Vediamo, Verstappen sta arrivando. Vediamo se Max ce la fa. Attenzione, attenzione, davanti, davanti. Mamma mia strategia per Fietta. Perfetto. E con le soft possiamo spaccare fuori tutto adesso. No, 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 aspetta, aspetta. Uh, che errore, che errore. Sono dimenticato di cambiare. Speriamo bene. Ten laps. E' che adesso da anche junior. Da junior. Ok, leclerc. C'è, eh, Verstappen però ha guardato la posizione su Sainz, eh. Porca miseria, oh. Sainz deve rimontare se vogliamo un'altra doppietta. Speriamo. Speriamo. No, 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 anche lui sta andando. Uh. Vai. Speriamo. Copio. E mo' vediamo Sainz dove superarlo, dove prenderlo tranquillamente Verstappen, teoricamente. Giro record di Charles. Neutro. Neutro. Lecce non fa errori, vince. Sainz non riesce a prendere. Speriamo. Dai Sainz, dai. Vogliamo il doppiettone. Ok. Niente, Sainz incredibilmente non esce a pigliare Verstappen. Abbiamo le stesse percentuali, però io ho la mia scuola migliore. Cacchio. Eh, Max. Sempre Max. Si sta avvicinando tanto, però Yellow Flag. Attenzione. C'è successo? Albon, ok. Un'occhiata. Qui possiamo vedere la Williams. Ah, la testa a coda. Uh. Lo schianto è una doccia fredda per il team. Attenzione, Sainz è seconda, adesso bravo Junior. Guarda. Verstappen torna davanti. Dai, cacchio. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Spingere di più. Vai. Black, invece, sembra tranquillo. Vabbè, ragazzi, sto registrando. Allora, è impossibile. Ho un sonno devastante. Neanche averla sicura doppietta. La pretendo. Mamma mia, che lotta, Sainz. Overstappen, incredibile. Eh, le gomme finite. Attenzione, ci prova Junior. Grande, Sainz. You're doing really well, Carlos. Vai. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Vai, Sainz. Due doppiette consecutive sarebbe bello, cacchio. Noi vogliamo questa doppietta. Ok, sarebbe anche un buon vantaggio. Però le gomme veramente confinite. Eh, le due soste, alla fine, hanno dato bei risultati. Una sosta è pericolosa. Una sosta è difficile. Portare a casa la vittoria con una sosta, secondo me... Non è possibile che Sainz si sta avvicinando anche a Charles. Pochi metri separano Charles dalla vittoria. Stiamo su Charles, che se lo merita. Vai. Anche se è anche vicinissimo, Sainz, Verstappen. Intanto qua, winner, winner. Oh yes, seconda e tre assertiva per Charles. E Verstappen all'ultimo Super Assigned. Incredibile. Ah, che schifo. Peccato, volevo la seconda doppietta consecutiva. Comunque, primi e terzi. Verstappen non mola niente. Però, eccolo qua, grande Carletto. È stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc. Seconda vittoria per il ferrarista consecutiva. Giro record. Fuga nella Piloti. Super fuga. Nella Costruttori, dopo sole, due gare. Raga, un saluto nel comendone. Veneziano. Ciao! Ciao!